La decisione di fornire a Taylor Swift una scorta della polizia verrà probabilmente utilizzata dal principe Harry, per giustificare il fatto che anche lui dovrebbe beneficiare di un servizio di sicurezza. La decisione di concedere all'inizio di quest'anno, il team di Swift ha fatto pressioni sul governo affinché adottasse l'insolita misura di fornire sicurezza alla polizia, mentre la star si trovava a Londra per 5 spettacoli allo stadio di Wembley. La settimana prima, Swift era stata costretta ad annullare gli spettacoli a Vienna dopo che un piano terroristico avanzato era stato sventato. Si dice che Andrea Swift abbia negoziato direttamente con Sue Gray, l'allora capo dello staff del primo ministro, e che abbia minacciato di annullare gli spettacoli se la richiesta non fosse stata accolta. La decisione ha suscitato l'ira di molti, con esponenti del governo che apparentemente hanno ignorato il parere dei responsabili della polizia che avevano inizialmente respinto la richiesta. Anche il principe Ferri è coinvolto in una disputa legata alla sicurezza. Dopo aver perso il suo diritto automatico alla sicurezza, dopo essersi ritirato dai doveri reali, all'inizio di quest'anno, ha perso una battaglia legale con il ministero dell'interno si ritiene che il principe utilizzerà l'esempio di Swift per rafforzare la sua posizione, dimostrando che è possibile derogare al quadro normativo vigente. Una fonte vicina al principe, ha detto al Telegraph. Mentre al principe Ferri viene negata la protezione nonostante minacce costanti, di lunga data e ben documentate, abbiamo visto che qui vengono prese misure straordinarie, tra cui la richiesta da parte del MET di un consulente del procuratore generale per un artista in visita, perché il manager e i genitori di quell'artista avevano minacciato di tirarla fuori se non le fosse stata data la protezione che volevano per lei.